Episodio 17 del corso di C++, oggi introduciamo i cicli. Ci sarà poi un altro video per parlare dei cicli, però oggi cominciamo con while e do while, mentre il prossimo sarà dedicato al for. La prima domanda che dobbiamo porci oggi è cosa sono i cicli? I cicli sono dei blocchi di codice, esattamente come if, in cui dentro possiamo avere altre istruzioni, che però, a differenza di if, non vanno a dire faccio questo o faccio quello se si verifica o meno una condizione. Ma finché una condizione è verificata, io continuo a fare questa cosa. Un esempio potrebbe essere finché ho i compiti da fare, in caso fossimo a scuola o quant'altro, faccio i compiti, quando ho finito vado a fare altro. Oppure, finché ho sonno dormo, quando ho finito mi alzo e via discorrendo, giusto per semplificarla. Ora, vediamo effettivamente questi cicli e quant'altro. Cominciamo con il while. While vuol dire mentre, quindi mentre una condizione è verificata, fai qualcosa. In questo caso, per condizione, andiamo a mettere un contatore. Certo si mette un contatore, potete chiamarlo count, potete chiamarlo i, spesso e volentieri, anche in altre linguaggi di programmazione, li trovate come i, perché? Perché stanno per iteratori, quindi di base l'iterazione è un'operazione di queste. Ogni volta che andiamo a verificare, facciamo un'iterazione. Un'altra volta, un'altra iterazione. Un'altra volta, un'altra iterazione. È come se ogni volta che voi fate da mangiare, è un'iterazione del far da mangiare. Va bene? Giusto per semplificarla un po'. Quindi potete utilizzare i, oppure in questo caso count. Partiamo da 1, oppure partiamo da 0, sto continuando a mettere il punto esclamativo. Il discorso è che, fin tanto che count potrebbe essere minore o uguale a 5, che cosa mi fa? Mi deve mandare a schermo qualcosa. In questo caso, std, due punti, cout, cosa voglio mandare a schermo? Voglio mandare a schermo, questa è l'iterazione, iterazione, numero, due punti, spazio, tac tac, e mettiamo il nostro count. Dopodiché andiamo a mettere un end line per sicurezza, end l due punti, e ci manca solo std, tac tac. Noi salviamo, vediamo cosa succede innanzitutto, e poi ve lo spiego. Faccio partire, e vedete che abbiamo infinito. È successo qualcosa. Attenzione, si sta spaccando tutto il programma. Non ce la caviamo così, quindi vedete che manca ancora qualcosa, e quello che manca di particolare rispetto all'if è l'aumento effettivo del contatore. Se io adesso vado qua, vedete che stavo andando avanti all'infinito, continuo a scrollare in alto, guardate, è praticamente infinito, e parliamo di pochi secondi in cui è rimasto attivo. Non riesco ad andare più su di così, benissimo. Quindi, io faccio partire, e vedete come questa è l'iterazione numero, 1, 2, 3, 4, 5. Adesso funziona, quindi questa è la sintassi corretta. Mi raccomando, se non mettete un counter, o comunque non cambia la condizione, avete un ciclo infinito, praticamente, ed è quello che generalmente vogliamo evitare. Poi vedremo come possiamo fare i cicli infiniti, e perché dovremmo farli. Che cosa succede in questo programma? Vado a creare una variabile fuori, una variabile count, che è il conteggio di base, perché count vuol dire contare, oppure conto o conteggio. Perciò ho la mia variabile count, che è uguale a 1, e dico, fin tanto che, oppure mentre, dategli la traduzione che volete, ma questo è il discorso. Fin tanto che count è minore o uguale a 5, mi fai questa cosa, ovvero mi mandi a schermo questa cosa, poi adesso ci arriviamo. Dopodiché, quando hai fatto questa cosa qui, aumenti il contatore di 1. Quindi, entra qua dentro, while, count è minore o uguale a 5, è 1. Sì. E allora, entra qua dentro, manda a schermo, questa è l'iterazione numero, quant'è count? Count al momento è 1. Quindi manda a schermo, questa è l'iterazione numero 1. Finisco, creo una nuova riga, benissimo. Una volta che ho fatto questa operazione, fate finta di essere, degli atleti che corrono, che corrono attorno alla pista. Ogni volta che finite, un giro della pista, aumentate di 1 il giro. Quando arrivate al giro finale, tipo ad esempio al decimo, basta, finite l'allenamento. Stiamo facendo esattamente la stessa cosa. Perciò, fin tanto che il count è minore di 5, quindi va avanti, 2, 3, 4, 4 è minore o uguale a 5? Sì. Quindi mando a schermo 4. Aumento di 1? 5. Parentesi, però è non while, quindi torna su. While, 5 è minore o uguale a 5, non è minore, ma è uguale. Quindi entro, 5, aumento, 6, salgo, while, 6 è minore o uguale a 5? No, perché 6 non è minore, 6 non è uguale a 5, 6 è maggiore di 5. La condizione non è più verificata, la condizione risulta quindi falsa, di conseguenza il programma salta tutta sta roba, esattamente come l'if, e prosegue. Questo è un ciclo. Il ciclo in soldoni è andare a ripetere lo stesso per azione più volte. Pensate a una persona che magari è in ufficio, gli danno lo stack di fatture e gli dicono, ok, per tutte queste fatture le controlli. Quindi, qua potrebbe essere finché ho fatture sul tavolo, cosa faccio? Verifico che la fattura sia stata pagata, eccetera, bla bla bla, sposto la fattura. Benissimo, vado avanti. Ho ancora fatture sul tavolo? Sì, chiaramente noi questo ragionamento lo facciamo, ma lo facciamo in modo diverso e soprattutto lo facciamo in modo inconscio, più veloce del computer, senza dover stare a spiegare. Finché hai fatture sul tavolo, finché hai roba da fare, continui. Non dobbiamo specificarla in questo modo, ma tradotta in codice di base ragiona così. Se io qua vado a mettere 6, come potrete ben immaginare, se faccio partire, non succede assolutamente niente. Quindi, il ciclo while, parte solo se la condizione è verificata. E continua fin tanto che la condizione è verificata. C'è invece il suo fratello, non gemello, ma fratello, che si chiama do while. Do vuol dire fare, voce del verbo to do, che è fare, e while, fare mentre. In questo caso è leggermente diversa, la sintassi. Muto un attimo, scusatemi, non muto, ma commento questo, non sto editando video. Faccio così, e andiamo a mettere esattamente la stessa cosa. Count, minore, uguale a 5, e qua dentro andiamo a fare le medesime cose. Vado qui, tac, decommento, salvo, punto e virgola, qui. Salvo, e se adesso, rimetto a 1, faccio partire, è esattamente uguale. E voi potreste dirmi, Edo, dov'è la differenza? Non la capisco, a me sembra esattamente la stessa cosa. Hai cambiato solo la sintassi, probabilmente l'hai resa anche un po' meno intuitiva, rispetto a questa, dov'è il catch? Dov'è la differenza? La differenza è molto semplice, e ve la faccio vedere, mettendo 6 qua in alto, io salvo, mando a schermo, e vedete che mi ha mandato questa l'iterazione numero 6, a prescindere che il messaggio in sé sia sbagliato. Ma non è questo il problema. Prima, in while, si entrava esclusivamente se la condizione era verificata. Punto. Non è verificata? Non mi interessa. La cosa muore lì. Mentre invece, nel do while, si utilizza quando vogliamo che almeno una volta venga eseguita, a prescindere che la condizione sia vera o meno. Non è poi vera? Pazienza. Quindi, si entra qua, mi fai sta roba, dopodiché, verifichi la condizione. Faccio sempre questo esempio di vita reale molto simpatico. pensate ad una persona che entra in palestra, ci sono i tornelli, pensate a quelle alle 24 ore, dove si striscia la carta anche solo per entrare. Qua dentro, se la carta è scaduta, non c'è... non si entra in palestra. Va bene? Mentre invece, in un altro tipo di palestra, la carta si striscia solo per uscire. Di conseguenza, voi entrate, la carta è scaduta, ma vi siete effettivamente allenati, dopodiché fa il controllo, non potete uscire, però in qualche modo ce la si cava, si diceva, vabbè dai esco dall'antincendio, oppure ho dimenticato la tessera, o qualsiasi altra cosa, e riuscite ad uscire. Però, eventualmente restate bloccati dentro. Ma voi l'allenamento, l'avete già fatto. Ora, facciamo adesso un esempio pratico, lato programmazione, di cose che potreste fare anche voi, al di là di esempi di vita reale, un po' metaforici, tra while e do while. E cominciamo col do while, e poi vediamo la sua traduzione in while. Quello che andiamo a creare è un piccolo giochino, che crea un numero casuale, l'utente deve indovinarlo. Se lo indovina, ha vinto, se non lo indovina, continua a chiedere il numero. Basta. Allora, al momento non sappiamo generare numeri casuali, se volete farlo potete andare a controllare C++, random number, e via discorrendo, non c'è niente di male nel guardare la documentazione, perché non possiamo veramente coprire tutto in un corso. Quindi per ora, facciamo semplicemente un numero segreto, secret number, e lo mettiamo, ad esempio, come 5. Quindi il nostro numero segreto è il 5. Quello che in realtà potreste fare, finito questo video, è provare a renderlo dinamico, randomico. Dopodiché abbiamo, anzi, scriviamo in italiano, scusatemi, numero segreto. Dopodiché abbiamo, numero utente, tac, e se volete, il numero di tentativi, giusto così tanto per, tentativi. Bam. Vado a sistemare. Scendo, e cominciamo a costruirlo col do while. Io ve lo spiego passo passo, però in realtà vi spiego poi la cosa finale, perché mi interessa la differenza. Quindi abbiamo il nostro do, e quello che voglio far fare sul do, è mandare a schermo la richiesta. Quindi, see out, e chiedo, indovina, il numero. Potreste specificare che è tra 1 e 100, pazienza. Non è importante al momento. dopodiché andiamo a prendere std, tac, tac, scene, e andiamo a prendere in entrata, il nostro numero, non segreto, ma utente. Quindi cosa stiamo facendo? Diciamo all'utente di inserire un numero, inserisce il numero, lo mettiamo a numero utente. Niente di incredibile. Andiamo poi a prendere un if, e vediamo che se numero utente, è uguale uguale a numero segreto, cosa facciamo? Mandiamo a schermo, hai vinto, se il numero, ad esempio, è minore, potreste fare una cosa del genere, oppure potreste dire, semplicemente, hai vinto, oppure riprova. Ecco, facciamo una cosa così per non complicarlo. Else, riprova. Poi vediamo su cosa potreste migliorare di questo programmino, giusto come esercizio. Andiamo avanti, e dobbiamo poi andare a mettere la condizione. La condizione è while, numero utente, è diverso dal numero segreto. Proviamo. Sappiamo che è 5, però ne sbagliamo un attimo, quindi faccio partire. Indovina il numero, metto 6, riprova, indovina il numero, avevo dovuto fare così, scusatemi, tac, tac, std, due punti, due punti, end line, e mettiamolo anche qua. Riproviamo, mettiamo ad esempio 10, tac, non ho chiaramente rifatto partire, sto continuando, mettiamo 5, hai vinto. Niente di incredibile, vediamo cosa abbiamo scritto insieme. Allora, abbiamo, non abbiamo neanche mandato a schermo i tentativi, però lasciamolo qua perché potreste abbellirlo. Abbiamo il nostro numero segreto, che è 5 in questo caso, abbiamo il numero utente, andiamo nel do a fare tutta questa roba almeno una volta, quindi la prima volta noi scriviamo, indovina il numero, a me non interessa se il numero utente non è uguale al numero segreto, perché se io avessi messo il while prima, non sarebbe mai entrato, perché giustamente il numero utente non è neanche assegnato. Quindi in questo caso, ancora prima di verificare se il numero utente è uguale al numero segreto, perché non ce l'abbiamo il numero utente, mandiamo a schermo, indovina il numero, noi inseriamo il numero, qua va a fare la verifica se il numero è corretto, in questo caso hai vinto, e non solo il numero utente è uguale al numero segreto, di conseguenza non è più verificata, perciò il programma non torna su, ma semplicemente va avanti. Else, riprova, numero utente è diverso da numero segreto, quindi torno su e te lo richiedo. Va bene? Quindi così è con il do while. Facciamolo invece con il while. Con il while, dobbiamo andare prima, a dire il numero, quindi lo facciamo subito, dopodiché possiamo dire while, apriamo, numero utente diverso da numero segreto, allora std, copiamo direttamente, qua mettiamo riprova, riprova, due punti, spazio, std, tac tac, end line, e qua dentro riprendiamo il numero. Se la persona vince, una volta che è uscito, abbiamo una cosa del genere. Come vedete sono due approcci totalmente diversi, perché qua andiamo direttamente nel main, ma andiamo a schermo indovina il numero, l'utente inserisce il numero, dopodiché facciamo il controllo per ogni volta che c'è il numero, se il numero non è uguale lo richiede ogni volta da qua dentro finché non è uguale. Quando è uguale salta e va qua dentro. Testiamo, faccio play, provo a mettere 10, metto 100, metto 56, 89, metto 5, e vedete che funziona. Sono due approcci totalmente diversi, in una casistica del genere, è più pulito il do while. In realtà vanno bene entrambi, perché? Perché comunque vogliamo che venga chiesto il numero. Vedete, nel momento in cui è qua fuori, questo è proprio l'esempio palese, perché questo, si vede che è fuori da tutto il while, vedete come il while va a spaccare, qua in alto, e qua in alto. Invece, per come l'abbiamo strutturato qui, è tutto in un unico blocco di codice. Dimostrazione che, while e do while sono simili, fanno praticamente la stessa cosa, in due modi totalmente diversi, andando a scrivere due parti diverse del codice. Non c'è una regola su cosa dovete utilizzare. Usate quello che vi fa più comodo, in base alle esigenze. Basta. Punto. Per concludere, vi dico che, cosa potreste fare per abbellire come esercizio, questo giochino? Innanzitutto, rendete il numero segreto randomico. Quindi scrivete online, e cercate C++, Rand Number. Vi esce, controllate come si fa, guardate, e rendetelo randomico. Dopo che aggiungete i tentativi? I tentativi dovete aumentarli. Quindi dovete aggiungere un counter, per i tentativi che qua già abbiamo, ma dovete aumentarlo. A prescindere che sia while, o do while, potete migliorare i testi, potete migliorare gli spazi, quello che è, eccetera, e soprattutto potete aggiungere, un controllo per dire, se il numero che noi abbiamo scritto qua, è minore, potreste scrivere, come risposta, non solo riprova, ma, prendi un numero un po' più grande. Se il numero scelto dall'utente, è maggiore di un numero segreto, potreste mandare a schermo, prendi un numero, un po' più piccolo. Insomma, avete tante possibilità per abbellirlo, anche se sembra, una stupidata. Quindi direi che noi, per i cicli, while and while, abbiamo concluso. Non perdiamo tempo, perché dobbiamo parlare di un altro ciclo, che è il ciclo 4. Ci vediamo tra poco.